Subito dall'altra parte Cappelletti per trovare Anderson, la tripla che non arriva, il rimbalzo di Spagnolo sì, poi si rimbalza sulla gamba, Spagnolo brutto errore, un'altra chance! Cerca di pensare anche alla tripla, poi attacca sulla velocità Grazulis cercando anche di andare al ferro, errore, però viene premiata la lotta rimbalzo di Smith e c'è l'altra opportunità. Ancora Cappelletti, adesso muove velocemente il pallone Verona trovendo in Anderson, la via per la tripla, errore ma rimbalza ancora per il 23 che sceglie quindi di accorciare un po' le distanze. Dall'arco 35% contro il 30% da Verona e Trento, ottimo scarico per Anderson!